Si parte dall'acqua che è una sostanza a basso contenuto energetico e si producono ossigeno e idrogeno che sono a più alto contenuto energetico. Quindi diciamo si immagazzina l'energia luminosa in questi prodotti chimici. Quindi volendo una sintesi nel senso che l'energia viene incorporata in questi composti chimici, ossigeno e idrogeno, che poi dopo reagendo assieme mi ridanno energia e si ritrasformano in acqua. Un altro problema è questo. Se devo scendere l'acqua in idrogeno e ossigeno, quindi in due gas, dovranno evolversi dal sistema idrogeno e ossigeno, due gas, ma deve succedere che queste evoluzioni siano, diciamo, in compartimenti separati, perché se si svolgono insieme sono mescolati, potrebbero dire due squadre. Quindi ci vuole anche un setto, una membrana, che separe la parte, diciamo, ossidante da quella riducente in modo da produrre i due gas separatamente. Perché si indire l'acqua in idrogeno e ossigeno con luce solare vorrebbe dire formare, produrre il combustibile idrogeno che è un combustibile ideale, una volta che lo si è ottenuto e che quando poi si usa, diciamo, o bruciandolo con l'ossigeno o nelle celle combustibili ridano in ogni caso acqua e quindi un combustibile assolutamente pulito. E l'acqua non è che si consuma qui, semplicemente prima si scinde e poi si riforma. Cioè io prima prendo l'acqua, la scinde di idrogeno e l'ossigeno, ma poi quando voglio energia faccio combinare l'idrogeno con l'ossigeno mi ridano acqua, quindi l'acqua non si consuma. Anche perché qui non c'è bisogno di partire dall'acqua pura, qui andrebbe bene anche l'acqua del mare, se non è un problema che è legato a particolari caratteristiche dell'acqua. Questo sanni non è altro, quando in ultimo, che un insieme di molecole, precisamente sono sei pezzi attaccati fra di loro. Visto più da lontano è fatto così, è un filo, un filo con due grossi, diciamo, gruppi alle estremità e c'è un anello che può muoversi lungo il filo. Il tutto è lungo 4 nanometri, quindi 4 miliardesimi di metri. Allora, è stato progettato in modo tale che lungo il filo, lungo il filo ci sono, noi diciamo, due stazioni, cioè due luoghi dove preferenzialmente l'anello si ferma. L'anello o si ferma in questa stazione o si ferma nell'altra. Se nessuno gli dice niente, l'anello sta attorno alla stazione alla quale è più affine, dove c'è più interazione, quindi sta su una delle due. Si capisce bene che è attorno alla stazione, chiamiamola alla prima stazione. Bene. Quindi il sistema starebbe così se nessuno lo tocca. Ma è stato ingegnerizzato in modo tale questo sistema e questa molecola che mandando luce a uno dei componenti, che è uno dei due gruppi estremi, poi ci sono dei processi di trasferimento elettronico che fanno sì che l'anello, in seguito allo stimolo luminoso, si muove e va nell'altra stazione, poi torna indietro. Quindi è un processo che in qualche modo assomiglia a quello di un pistone in un cilindro, se volete, e siccome poi i percorsi da compiere sono brevissimi, un paio di nanometri quest'anello si muove, e per fare due nanometri si fa molto presto, e quindi si può vedere che è molto veloce questo movimento, per cui potenzialmente potrebbe fare 60.000 giri al minuto, ecco, il nostro aggeggino richiede anche lui energia, ma con che energia funziona? Energia solare, perché gli basta luce del sole. Un componente di questo nanomotore è quello stesso ruttenio tris di piridile che noi volevamo usare per scendere l'acqua di idrogeno e ossigeno, perché poi il concetto è lo stesso, deve assorbire luce e deve poter poi separare una carica più da una carica meno, che è quello che succede anche qui, assorbendo la luce si trasferisce un elettrone, l'anello si muove, insomma, tutta una questione così. Sì, si potrebbe pensare a qualcosa, ma quasi certamente può darsi, sarà più utile per cose che al momento non si pensano. Faraday, che studiavo l'elettricità a Faraday, no? Ci fu il primo ministro inglese che andrò a visitare il laboratorio di Faraday e chiese a Faraday, ma cosa pensate di fare con questa strana, esotica sostanza che chiamate elettricità? E Faraday rispose, non si preoccupi signore, un giorno la tasserete. Infatti, adesso voglio mica di che tasseranno il mio nanomotore, però voglio dire l'imprevedibilità della ricerca scientifica. Io direi, energia solare è risparmio, questo è il fare, risparmio, soprattutto risparmio. Cominciamo con il risparmio, perché c'è un grosso margine. L'energia solare è dimostratissimo che ce n'è abbastanza, ce n'è abbastanza, qualcuno ha fatto i conti, basterebbe un'area, mi sembra, di 400 km2, che è enorme, ma è piccola rispetto al superficie terrestre, o, non so, mi sembra sì, lo 0-16% del superficie terrestre, che coperto con delle fotocelle che avessero il 10% di efficienza, che è quella che hanno attualmente, darebbe una quantità di energia sufficiente a quello che il fa bisogno, la quale, fra l'altro, è distribuita abbastanza equamente dappertutto, nel senso che si pensa, ma c'è molta energia all'equatore, ce n'è poco al podo, non è poi mica vero, perché se uno va d'estate in Svezia fa il bagno nei laghetti, perché c'è sempre 24 ore di luce, cioè si può calcolare che, non so, al massimo la differenza di intensità luminosa, non so, sia, supponiamo, sia il 100% all'equatore, sia il 30-40% al podo, quindi, se paragoniamo adesso con il petrolio, che qui c'è, ce n'è moltissimo, e lì non c'è niente, insomma, qua invece è molto ben distribuito, e quel è il grande vantaggio dell'energia solare, che potrebbe portare, potrebbe essere, diciamo, l'opportunità, e siamo in crisi come energia, ma ogni crisi offre delle opportunità, no, questo potrebbe offrire l'opportunità di cambiare anche il sistema, come posso dire, che governa il mondo, di fare appunto un mondo più uguale, più democratico, perché questa risorsa, che è la più importante che c'è, che è l'energia, sarebbe appunto a disposizione in modo abbastanza ugualitario fra tutti, ecco. Grazie. Grazie. Grazie.